Ciao sono Simone e ti do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in cui parleremo del grande fotografo Robert Frank. Un fotografo e un cineasta a Svizzero che ha vissuto comunque gran parte della sua vita in America, considerato sicuramente uno dei personaggi più influenti e innovativi nella storia della fotografia. E' nato il 9 novembre 1924 a Zurigo e ha lasciato sicuramente un'impronta indelebile nel campo della fotografia documentaria e ha contribuito in modo significativo all'evoluzione dell'arte visiva nel ventesimo secolo. Ha iniziato a lavorare come assistente fotografo dal 1941 al 1944 direttamente a Zurigo ma nel 1947 lascia l'Europa per trasferirsi negli Stati Uniti dove continua a lavorare come fotografo di moda ma il quale affianca parallelamente a questa attività quella di fotografo freelance, il reporter freelance che lo porta comunque ad affrontare numerosi viaggi come quello in Perù e Bolivia nel 1948 o quello nel 1949 in Europa, nella sua Svizzera, in Francia, Italia e Spagna. Nel 1955 ottiene una sostanziosa borsa di studio e utilizza i soldi ricevuti per viaggiare per tutti gli Stati Uniti dal 1955 al 1956 realizzando oltre 24.000 fotografie. Questa esperienza e queste fotografie saranno poi la base della creazione del suo lavoro più celebre e influente intitolato The Americans pubblicato nel 1958. Il libro è una raccolta di immagini che Frank ha scattato durante i suoi viaggi in tutto il paese offrendo uno sguardo sincero e spietato sulla realtà dell'America del tempo. Questo progetto fotografico ha quindi rivoluzionato il modo in cui la fotografia documentaria veniva intesa e rappresentata. Infatti le immagini di Frank mostravano una visione non idealizzata e spesso controversa dell'America mettendo in evidenza temi molto scottanti come la segregazione raziale, la povertà, l'alineazione, la disillusione del sogno americano e via dicendo. Le sue fotografie catturavano momenti spontanee e non convenzionali sfidando quindi le convenzioni estetiche dell'epoca. Questo progetto inizialmente quindi non ebbe molto successo anzi ricevette molte critiche appunto per la rappresentazione dei temi americani ma nel corso del tempo The Americans è diventato un punto di riferimento fondamentale nella storia della fotografia. Il libro infatti ha influenzato intere generazioni di fotografi ispirando un nuovo approccio alla documentazione visiva e riaprendo nuovi orizzonti artistici. Fu proprio questo iniziale in successo di The Americans che spinse Robert Frank ad abbandonare la fotografia per dedicarsi al cinema realizzando diversi film sperimentali e documentari. Il suo film più noto è sicuramente Coxsucker Blues del 1972, un documentario sulla band The Rolling Stone che ha suscitato polemiche per la sua rappresentazione realistica e cruda del lato oscuro della vita della rock n roll. Anzi se non sbaglio è stato addirittura censurato dalla band stessa. Dopo la tragica morte della figlia Andrea appena ventenne se non sbaglio di un incidente aereo Robert Frank ricomincia a retroalizzare la macchina fotografica quindi dalla metà degli anni 70 fino praticamente all'anno della sua morte nel 2019. Ma la sua fotografia è lontana dai reportaggi precedenti, usa sia collage e polaroid e incide anche direttamente sul lato sensibile della pellicola con piccoli graffi o scrive direttamente sul lato sensibile. Quindi una sorta di cambiamento del suo stile. Infatti la carriera di Frank è stata segnata da una continua sperimentazione e ricerca artistica. Ha abbracciato l'uso di tecniche non convenzionali come l'utilizzo della sua esposizione o dell'inquadratura sfocata per creare immagini che andavano oltre la realtà visibile catturando anche l'essenza emotiva e spirituale dei suoi soggetti. Ma la sua ricerca non si limitava solo alla forma ma anche al contenuto. Attraverso le sue fotografie e i suoi film ha affrontato tematiche sociali ed esistenziali veramente molto complesse. Il suo lavoro era spesso calico di una profonda introspezione e di una sensibilità verso l'umanità e le sue continue contraddizioni. Sicuramente uno dei pregi più importanti della fotografia di Robert Frank e di The Americans in particolare è quello di essere stato innovativo e pionieristico. Ha introdotto infatti una nuova estetica e una prospettiva personale che ha redefinito il modo in cui il mondo veniva rappresentato attraverso un obiettivo di una macchina fotografica. Un'altra delle caratteristiche distintive dello stile di Frank è l'approccio spontaneo e intuitivo. Ha infatti spesso scattato le sue fotografie senza posare o preparare le situazioni cercando di catturare la realtà in un modo crudo e veramente autentico. Ha quindi preferito fotografare le persone nelle loro vite quotidiane cogliendo momenti fugaci e gesti spontanei e questo sicuramente ha contribuito a creare un senso di immediatezza e di realismo nelle sue immagini. Un altro elemento fondamentale del suo stile è sicuramente l'uso audace del contrasto, infatti le sue fotografie sono caratterizzate da un forte contrasto tra luci e ombre che va a enfatizzare i dettagli e crea un effetto veramente drammatico. E questa scelta stilistica contribuisce ovviamente a creare immagini intense e potenti, immagini che evocano emozioni e suscitano una reazione molto viva nel pubblico. Come altri fotografi che abbiamo già analizzato, per esempio Michael Kenna, Frank era anche noto per la sua predilizione per l'uso del bianco e nero. Le sue immagini in scale di grigi assumono così ancora maggior impatto visivo perché il bianco e nero elimina distanzioni cromatiche concentrandosi così sulla forma, sulla composizione e sulle espressioni umane e questo conferisce alle sue immagini una profondità e una forza visiva veramente straordinaria. La composizione è un altro elemento chiave nello stile di Frank, ha infatti sperimentato con angolazioni insolite e inquadrature audaci sfidando così le convinzioni tradizionali. Le sue fotografie spesso presentano tagli netti, linee diagonali, creano quindi un senso di linearismo e movimento veramente molto accentuato e questo ovviamente continuisce a rendere le sue immagini visivamente coinvolgenti e stimolanti. Un altro aspetto significativo dello studio di Frank è sicuramente il suo approccio intimo e personale verso i suoi soggetti. Le sue fotografie sono infatti intrise di empatia e compassione verso queste persone e ha cercato di mostrare la realtà in tutta la sua complessità rivelando tutte le sfumature dell'esperienza umana. Non è infatti un caso che le sue immagini spesso trasmettano una sensazione di vulnerabilità offrendo uno sguardo empatico sulla condizione umana. Infine il suo stile è caratterizzato anche sicuramente da una narrazione visiva. Le sue fotografie non sono semplici istantanee ma frammenti di storie più grandi. Ogni immagine di Frank racconta una storia, catturando quindi un momento significativo o rilevando un aspetto nascosto della nostra società. Nel corso della sua carriera Frank ha ricevuto numerosi riconoscimenti e non efficienze per il suo contributo alla fotografia al cinema. Pensa che nel 1954 è stato insegnato addirittura del prestigioso Asser Blood Award per il suo straordinario impegno nella fotografia. Le sue opere ovviamente sono state esposte in importanti musei e gallerie di tutto il mondo. Purtroppo Robert Frank è scomparso il 9 settembre 2019 in Canada all'età di 94 anni. Ma la sua realità artistica e il suo impatto sulla fotografia contemporanea rimangono vivi e influenti ancora oggi. Adesso prima di concludere ecco alcune interessanti frasi di Robert Frank. C'è una cosa che deve contenere la fotografia. L'umanità del momento. L'occhio dovrebbe imparare ad ascoltare prima di guardare. Quando le persone guardano le mie foto voglio che si sentano come quando vogliono rileggere una riga di una poesia. Con questi ultimi pensieri si conclude anche questo video. Spero che il contenuto ti sia piaciuto. Nel caso lascia un like e non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo alla prossima!